eccoci qua buonasera spero si senta si veda oggi sono pronto per la diretta che spaccherà in due il mondo della formazione senza alcun ritegno verso la stessa parlerò di come farvi risparmiare 2000 euro evitando corsi inutili spendendo solo dai 33 ai 53 euro è una diretta importantissima condividete è la verità sulla formazione in italia dimostrata non solo con la logica ma anche coi fatti coi numeri come piace a me siamo pronti a partire condividete il video è importante facciamo risparmiare dei soldi alla gente quindi direi che è un fine nobile e facciamo divulgazione come piace a me bene se volete scoprire se volete sapere quali sono le pratiche per poter risparmiare 2000 euro a partire da subito per fare la il trading come indica il 90 per cento dei formatori italiani in ambito di spread stagionali dovete fare pochi semplici step seguiteli perché poi verso la fine vi svelo l'altro segreto l'altro lato della luna ma dovete stare in diretta dovete seguire dovete condividere se no ve lo perdete non è un problema sono felice lo stesso ma è l'altro lato della luna ok quindi è fondamentale conoscerlo step numero uno basta iscriversi a season algo che cos'è season algo è un software di lavoro di studio sulle stagionalità sui future ok costa dai 33 e 53 euro al mese a fondo del piano d'abbonamento ci si abbona si va sui raccomandati i raccomandati che cosa sono andiamoli a vedere insieme eccoci qua siamo su season algo questa è la piattaforma si va su strategies recommend ecco qua i raccomandati sono un suggerimento diciamo sono i 20 30 trade suggeriti da season algo che vengono proposti mese per mese voi li seguite pedissequamente ok dandomi retta ascoltando alla perfezione questi tre consigli che vi sto per dare questi tre consigli vi faranno risparmiare 1500 2000 3000 euro ok vi faranno scrollare di dosso quei formatori che nulla sanno ma che tanto si fanno pagare consiglio numero uno non si fa spread stagionale sui future finanziari quali sono i future finanziari sono gli indici gli obbligazionari e le valute compreso il forex ok chi vi dice di fare le stagionalità sul forex non ha scuse è ignorante non c'è una contestualizzazione non c'è un'esperienza personale che possa giustificare questa scelta le stagionalità su indici obbligazionari e valute non esistono possono esistere dei cicli ok si possono quasi descrivere soprattutto sugli indici sugli obbligazionari sulle valute non mi perché non esiste nulla di tutto ciò però se vogliamo tracciare dei macro cicli di anni sull'inici possiamo non sono stagionalità perché il principio della stagionalità è che il prezzo viene modificato dalla legge della domanda e dell'offerta non c'è nulla di tangibile nei future finanziari ok nulla di tangibile nei future finanziari il prezzo non viene modificato dalla legge inossidabile della domanda e dell'offerta è semplice ok è cristallino mi sembra evidente però per molti no ok volevo fare un intro per questa diretta questa diretta è dedicata a quelli vestiti con colori sgargianti a quelli che fanno le accademie e a quelli che si rilassano soprattutto oltre a quelli che fanno i giochi di parole è per voi bene lasciamo da parte i future finanziari che non hanno alcuna stagionalità e veramente basta leggere tre righe di scritto sui mercati ufficiali per capire questa cosa veramente basta comprendere che cosa è una stagionalità per automaticamente escludere questi future finanziari molto semplice prendete i raccomand togliete i future finanziari step 1 fatto preciso perfetto c'è un grande studio dietro mi pare però si fa step numero 2 togliete metalli e ma i metalli sono una materia prima sì ma non ci sono stagionalità verificate non lo dico io non lo dici tu non lo dice il formatore di turno ok non lo dice tabi che è qua dietro che non so se vedete eccola qua non lo dice neanche lei ok non si riesce a descrivere una stagionalità soddisfacente sui metalli le stagionalità rispondono alla legge della domanda e offerta o all'effetto del della natura ok dei cicli biologici in realtà è la stessa cosa presa da un punto di vista diverso la soia viene presa sempre in esame come stagionalità causata da un fattore naturale in realtà il prezzo è causato esclusivamente dalla legge della domanda e dell'offerta capisco che sia già un po complicato da spiegare vabbè lasciamo perdere comunque si possono descrivere così se vogliamo semplificare per usare questo linguaggio dei formatori è meglio parlare chiaro meglio parlare molto semplice non sia mai che non mi capiscano quindi abbiamo il ciclo biologico naturale della semina e del raccolto sulle granali ad esempio fino al frumento al mais al cotone anche per arrivare poi alla legge della domanda e dell'offerta quindi ai consumi ad esempio il natural gas al prezzo che sale d'inverno perché cittadini americani hanno deciso di scaldarsi e quindi utilizzano il gas naturale non lo decido io non lo lo decido il formatore di turno non c'è nulla di meritevole in questa riscrizione ok lo decido un 350 milioni di cittadini americani perfetto i metalli non rispondono a queste logiche per via della loro conformazione per via della loro della loro natura ok saluti a tutti ragazzi grazie per essere per essere qua danilo carbo va bene domandate se avete domande dubbi per precisità chiedete io prima parlo perché questo è un messaggio alla nazione quindi a priorità assoluta e poi arrivo a rispondere a vostre domande detto questo non si tradono i future finanziari non si tradono i metalli bene abbiamo comunque delle operazioni che rimangono qua sul sui raccomandati di season algo quindi il terzo step da dover rispettare in modo preciso assoluto indiscutibile è accettare di eseguire dei trade solo se superiori ai 60 90 giorni ok è semplice tutti sanno contare fino a 60 tutti ci sanno contare fino a 90 ciò che è inferiore non si trada a me sembra abbastanza semplice mi stupisce che chiunque non capisca che una stagionalità non può durare meno di 60 90 giorni è evidente è inevitabile no io stesso faccio spread trading su stagionalità da 20 giorni semplicemente perché entro alla fine di una stagionalità o all'inizio a metà e decido di trarre 20 20 giorni ma sono dentro una stagionalità una stagionalità quanto diavolo deve durare ragazzi può durare meno di 30 60 90 giorni mi pare è impossibile ok spiegatelo voi per gentilmente ai formatori le stagioni sono 4 ci sono 360 giorni all'anno si fa 360 diviso 4 e si cerca di arrivare a un punto è matematica semplice provateci voi però perché sennò poi mi spiace dare insomma le cattive notizie già ce ne sono un sacco per questi qua in questa diretta questi sono tutti sassolini che mi tolgo dalle scarpe questi tre step seguiti pedissequamente e appoggiandoci appoggiandosi al servizio segnali fa sì che voi possiate eseguire la stessa identica operatività del 90 95 per cento dei formatori italiani riguardano che riguardano che fanno corsi sulle stagionalità senza alcun problema anzi questi tre step spesso migliorano i loro corsi ve lo dico gratis ok io ve l'ho detto anche mesi fa io non ho aperto la scheda adesso me ne pentirò se andate sul mio canale e cercate spread trading stagionalità qualsiasi cosa io queste cose le ho dette esattamente tipo nove mesi fa in un video gratuito tre regole per fare trading sulle stagionalità nove mesi fa 207 visualizzazioni gratis tre minuti 17 dico esattamente queste cose semplice eppure tanti formatori non arrivano neanche questi tre concetti elementari che sono propri a chiunque abbia affrontato le stagionalità in modo professionale da trader vero vabbè io ve li do gratis così potete fare la stessa identica operatività o anche migliore del 95 per cento dei formatori italiani ok di chi si veste sgargianti di chi fa le accademie di chi si vuole rilassare di chi fa giochi di parole con i nomi tutti sono tutti compresi ok è la stessa identica operatività però c'è un problema c'è un problema e adesso vi voglio rispondere anche ad altri dubbi che vi potrebbero sorgere è chiaro che se un formatore che si fa pagare 1500 2000 3000 euro per formarvi per fare un corso se ha bisogno di appoggiarsi a dei raccomandati di season algo è chiaro che ci sono dei problemi ok io vi ho resi indipendenti da questi formatori zero gratis in cinque minuti siete già indipendenti da questi formatori perfetto però analizziamo il problema si fa un pagare per dover tradare i raccomandati per dirvi di tradare i raccomandati io ve l'ho detto gratis avete risparmiato prego è un servizio che faccio volentieri anche perché contemporaneamente mi tolgo qualche sassonino dalla scarpa ma c'è da chiedersi un pochettino come mai fanno così e quali sono le loro tecniche non sanno cos'è la stagione cosa è la statistica puntano agli indicatori la gente vuole indicatori 95 per cento dei trader su base anno è perdente ma 95 per cento dei trader su base anno chiede che chiede di poter operare con gli indicatori quindi dicono sì ma non entrare quando ti dice season algo noi siamo più furbi entra con gli indicatori è sbagliato ora analizziamo perché i raccomandati hanno dei difetti a parte che vi ho già detto tanto ma andiamo oltre perché non mi vuole fermare qua ma intanto capiamo perché gli indicatori non servono a una bene amata mazza sulle stagionalità lo sapete perché vi posso fare un esempio l'accettate ecco qua che cos'è questa è la stagionalità sul corn il mais è un grafico annuo da gennaio a dicembre abbiamo la media dei prezzi degli ultimi 70 anni che fa una curva una collinetta con picco a luglio quindi si può presumere anche solo guardando il grafico senza neanche leggere quelle dieci righe inglese dalle fonti giuste ma facciamo finta che vabbè tanto non hanno fatto quindi non lo facciamo neanche noi ok mettiamoci al loro livello noi capiamo che c'è una stagionalità c'è una ricorrenza statistica ok che tra l'altro è spiegabile a livello fondamentale grazie alla domanda dell'offerta ma non è un problema facciamo finta che c'è una stagionalità cioè noi vediamo chiaramente che ogni mese cioè ogni anno si ripete una conciclicità un movimento di prezzo si alza d'estate e scende d'inverno si alza d'estate e scende d'inverno noi cosa facciamo d'estate decidiamo di vendere c'è il codice il grafico è ufficiale del mercato stesso che fornisce il future sul corn non dobbiamo fare altro che vendere d'estate ok ora voi sapete cosa produce questa operatività cioè vendere d'estate senza neanche nessun discorso fondamentale ripeto noi sappiamo abbiamo solo un grafico vogliamo solo rispettare un grafico ufficiale questo produce non so se si vede bene ma produce questo in 51 anni ho l'86% di 3 di vincenti non ho fatto niente io sono entrato un giorno e sono uscito un giorno per la precisione sono entrato a marzo e sono uscito a ottobre punto perché marzo perché sono in spread questo è un dettaglio sono cose tecniche non ci preoccupano va bene noi stiamo tradando la stagionalità short ribassista del mais senza neanche farci una domanda e facciamo l'86% di 3 di vincenti avete visto una laurea a svolazzare avete visto dei dottorati di ricerca avete visto la nasa che mi chiamava no ho semplicemente fatto quello che è scritto sul sito ufficiale dell'ente che emette il future sul corn ora fate finta simulate che io a questo grafico attacchi qualche indicatore vediamo se riesco a farvelo dal vivo attacchiamo qualche indicatore cerchiamo di capire perché gli indicatori sono così importanti io ho il future sul corn non prendiamo questa volta lo spread e vendiamo d'estate e ricompriamo d'inverno ok possiamo anche vendere a giugno e non a luglio e ricomprare a fine settembre all'inizio settembre ok questo è il grafico sul corn è quello che abbiamo visto prima sul future a scadenza ok ora andiamo su interactive perché c'è questa funzione su season algo togliamo le medie non vogliamo le medie e applichiamo qualche indicatore ok usateli come volete che cosa dicono questi indicatori o meno la maggior parte dicono che il prezzo scende o sbaglio sbaglio stanno dicendo che il prezzo scende domanda sì e quindi riassumendo applicare degli indicatori a una stagionalità esistente grazie alla legge della domanda e dell'offerta non aumenta le probabilità di successo nella maniera più assoluta ok è come guidare una Ferrari e pensare di andare più veloce perché si ha le scarpe di Gucci è una cosa che non c'entra niente la stagionalità esiste per se stessa se tu vuoi utilizzare l'indicatore utilizzalo non serve assolutamente niente tra l'altro non ti dà neanche un'informazione corretta perché quello che tu devi cercare non è un valore buono di ingresso su questo grafico lo devi cercare su un grafico che ti paragona agli anni precedenti e questa è la piccola differenza ok chi applica gli indicatori non capisce neanche questa banale differenza tra lavorare con un sistema normale e lavorare con una stagionalità io individuo se voglio comprare un una zona di ipercomprato se rapporto questo future al passato cioè agli altri future uguali del 2019 18 17 16 quindi 14 non in base al prezzo di prima perché prima non c'era la stagionalità un mese prima non c'era la stagionalità se io apro su base daily l'indicatore bollinger band a 20 giorni è un mese ma cosa me ne frega non c'era non doveva partire non c'entra niente capite il senso? e i formatori vi dicono di utilizzare l'RSI il CCI le bollinger band l'ichimoku la trendline ma ci rendiamo conto della qualità infima di questi insegnamenti ci rendiamo conto altra cosa i formatori vi dicono che ne raccomandateci tutto abbiamo la statistica che di performance isolo un attimino gli spread abbiamo la statistica di performance degli ultimi 15 anni e quindi abbiamo quanti 12-13 spread con percentuali di trade vincenti dell'87 93 o 100% quindi 13 su 15 14 su 15 o 15 su 15 perfetto eh perfetto non sto dicendo che questi siano necessariamente sbagliati fatelo c'è anche possibilità che guadagnate se sono algo non è che sono scemi sto dicendo che vi sto dando un servizio gratuito a 53 euro al mese al posto di 2000 è tutta informazione gratuita che c'è già online che vi sto traducendo per voi bene questi 15 anni esattamente io che cosa me ne faccio se il future sulla soia è stato emesso nel 1936 letteralmente nel 1848 ma quello che è arrivato a noi è stato emesso nel 1936 e ma i mercati sono cambiati c'è l'elettronico 70 anni fa non esisteva il mercato di adesso vero assolutamente vero ma la stagionalità si basa sul mercato di adesso da quando in qua davvero non esisteva per la ciclo raccolta semina il ciclo biologico della natura no e 70 anni fa non si raccoglieva si seminava come adesso ma ci sono le mie trebbie che si ho capito sono cambiati i volumi non può essere cambiato il ciclo non esiste ok soprattutto sulle granaglie posso lasciare delle certezze magari sugli energetici va bene te lo concedo ma un bovino cresce in 8 anni non lo decido io non lo decidi tu lo decide la natura ok quindi voi vi accontentate di 15 anni o comunque chi paga 2000 euro per ottenere queste informazioni si accontenta di 15 anni ora vi faccio vedere che cosa succede ad accontentarsi di 15 anni questo che quello che adesso vedete con la linea blu che sto tracciando è la media a 15 anni ok 15 anni fa vedete come sale bene questo spread negli ultimi 15 anni al 93% di 3 vincenti perché ne ha sbagliato solo uno questa questo ha fatto tutti gli altri sono vincenti ok quindi 14 3 di vincenti e uno perdente peccato che nei precedenti 39 anni abbia fatto schifo completo oscenio orrore voi da quando in qua accettate di tradare una roba del genere state capendo che vi stanno prendendo per i per il sedere vi stanno prendendo in giro lo state capendo a me pare evidente però si fanno pagare io ve lo sto dando gratis vi sto dicendo potete tradare come loro poi più tardi a fine diretta vi svelo qual è l'aspetto lato oscuro della luna però solo per chi vuole sapere perché non queste informazioni ve le posso dare gratis visto che le ho date un anno fa quelle altre no solo che è interessato sta vi rendete conto che questo spread intermarket tra bovini da svezzamento e bovini vivi negli ultimi 15 anni ha fatto il 93% di 3 vincenti ma fino allora non ha mai funzionato mai non lo dico io esiste da 45 anni questo spread questi future 45 cioè per 30 anni non ha funzionato adesso funziona lo tradiamo è tutto a posto ma il mio amico il mio cugino l'anno scorso l'ha fatto ha guadagnato bene perfetto adesso vi spiego anche questa cosa qua questo è ancora peggio siamo sul copper che è un metallo tra l'altro neanche prezioso ultimi 15 anni 93% di 3 vincenti 14 vincenti 1 perdente non ha mai funzionato beh lo vedete voi sono i fatti non è che sto dicendo sono i fatti ha perso sempre perso 54 anni di storico ha sempre perso fino a 15 anni fa allora lo tradiamo non c'è niente di meglio siamo sicuri voi mettete a rischio i vostri risparmi per trattare una roba simile questo quasi è già meglio per carità ma fatto sta che non ha funzionato dal 66 fino al 2005 questo non ha funzionato dal 75 praticamente al 2005 ancora questo è ancora il caffè e sto tornando indietro questa è la realtà questa è la realtà questa è la statistica degli ultimi 15 anni è chiaro adesso vi spiego anche perché qualcuno guadagna intanto se io metto come avevo già spiegato se io metto un indicatore sulla stagionalità del corn non è l'indicatore che mi fa guadagnare la stagionalità punto poi alcune stagionalità che indica season algo nei raccomandati sono buone traccia l'andamento degli ultimi 15 anni ma se uno si interessa apre il grafico se lo studia si studia la storia capisce magari competenze di analisi fondamentale lo trada perfetto anch'io ogni tanto apro i raccomandati faccio così mi fermo qua poi apro il grafico e procedo con la mia analisi non è un problema quindi si può guadagnare quei raccomandati di season algo si guadagna completamente alla cieca alla cieca lasciando stare la storia lasciando stare la logica fondamentale lasciando stare qualsiasi tipo di analisi di livelli di prezzi ok perché poi la gente mi dice quale broker posso utilizzare per pagare meno di commissioni ma per entrare a mercato utilizza gli indicatori cioè forse il guadagno migliore è un'entrata a mercato efficiente basata su concetti realistici non sull'indicatore ma vabbè detto questo cosa stavo dicendo fatemi leggere un attimo i commenti se devo comprare cercherò che sia iper venduto si si va bene ok non so se ho detto che per comprare devi essere in iper comprato non mi pare stavo parlando della vendita quindi devo essere in iper comprato se vendo devo essere in iper comprato se compro devo essere in iper venduto molto semplice detto questo questa è la marmaglia di persone che diffonde concetti completamente sbagliati su sulle stagionalità un tipo di segnale nei raccomandati era questo qua sul cacao sul cacao si possono trovare delle stagionalità sono complesse bisogna studiare in maniera particolare bisogna farle con un concetto mentale diverso che dalle granaglie non lo sto dire qua perché questa non è un'informazione che devo dare gratis ma affidandosi ai raccomandati questo si sarebbe perso senza problemi ma va bene non è quello il problema questo sarebbe andato in perdita sul silver poi questo sarebbe andato in perdita questo sarebbe andato in perdita e qua sono soldi perché questo è grosso questo sarebbe andato in perdita ora il problema è non solo la selezione di ingresso è sbagliata rullo di tamburi ma è sbagliato anche il controllo del rischio ok se io seguo le stagionalità a chi demando il controllo del rischio esattamente se mi baso sui raccomandati se mi baso sugli ultimi 15 anni se non ho un minimo di conoscenze di competenza di analisi fondamentale me lo fate capire mi fate capire perché cercate gli sconti da 50 centesimi alla black friday su amazon e poi accettate di pagare non sto dicendo a voi in generale a chiunque guardi questo video guarderà questo video in futuro accettate di pagare 2000 euro per delle cose che sono gratuite inefficienti inefficienti cioè non serve esattamente questo serve anche altro e ve lo spiego dopo però è già qualcosa ecco ecco cosa volevo dire volevo rispondere a chi mi dice eh ma mio cugino ha guadagnato perfetto non c'è problema io sono contento se guadagnate soldi ragazzi sono solo contento non me li togliete di tasca a me il mercato è abbastanza grosso per tutti non c'è alcun problema ora però io mi chiedo state pagando 1500 2000 3000 euro per qualcosa che si avvicina alla casualità o state pagando per una strategia verificata studiata a fondo con un retro di analisi fondamentale con la competenza perché questo è il fatto se voi volete lavorare fare trading con una probabilità di successo simile al lancio della monetina io sono solo contento va bene a me basta dirvele queste cose non vi obbligo a far nulla ci mancherebbe ma ci mancherebbe anche ma poi non mi venite a dire e se non guadagno ogni mese avete tutte le angosce di sto mondo e quando vi presento le strategie molto più belle di quelle che presentano magari i concorrenti o questi tizi qua avete le angosce voi state lavorando con i raccomandati con una percentuale di successo poco superiore al lancio della monetina e non ci vuole molto perché si parla di stagionalità ripeto le stagionalità esistono indipendentemente che voi le guardate o no ok è l'albero che cade nella foresta se non lo guardi cade lo stesso ok cioè parliamoci di questo quindi non è difficile andare oltre la probabilità del lancio della monetina perché esistono e la strategia migliore del mondo come dicono nel webinar perché esiste punto esiste indipendente da me indipendentemente da me e da te capite bene che approcciare il mercato finanziario la cui unica certezza è il rischio e il profitto non è assolutamente un diritto con una probabilità leggermente superiore al lancio della monetina è oggettivamente stupido è oggettivamente stupido ripeto fate quello che volete sono vostri risparmi sono vostri soldi non me ne frega niente invece avete messo un anno un mese dieci anni a farli potete spenderli come vi pare io sono solo contento se fate quello che vi sentite vi dico solo che è oggettivamente stupido perché io ce le ho già le stagionalità esistono già devo solo sfruttarle ora veniamo al lato oscuro della luna un attimino perché a questo ci manca qualcosa intanto abbiamo capito che manca completamente un'analisi statistica non c'è l'analisi degli intorni parametrici dell'ingresso non c'è l'analisi del backtest non c'è l'analisi sulle medie 10 5 10 15 20 30 pare che esistano solo le medie 5 15 non so perché però va bene comunque non ci sono queste tre cose non c'è l'ingresso senza indicatori l'indicatore non fa nulla è concettualmente sbagliato sulle stagionalità ok il risparmio se lo volete ottenere è in base a uno studio che spiego in altri contesti con la media o coi prezzi del passato basta non posso paragonare l'ingresso selezionare l'ingresso di una stagionalità al giorno X coi dati passati di pochi giorni prima non c'era la stagionalità pochi giorni prima devo parametrizzarmi devo paragonarmi ai dati passati perché la stagionalità è ciclica chiunque non abbia chiunque non sa queste cose vuol dire che non ha neanche guardato season algo non dico concettualmente che non ci è arrivato perché non ha fatto non si è non ha astratto alcuni pensieri no no non ha neanche aperto le schede di season algo è andato sui raccomandati e ha detto io pago 53 euro al mese season algo mi faccio pagare 2000 sono a posto va bene però abbastanza inaccettabile gestione dello stop loss e copertura a posizione che mi auguro ci sia e mi auguro non sia su analisi di indicatori ok mi auguro perché il ragazzo che mi ha scritto via mail dicendo poi comunque io sono iscritto a qualsiasi newsletter di questi formatori quindi sento cosa che non dovrei sentire dire di guadagni iperbolici c'è un problema ok c'è un problema i guadagni iperbolici nel trading si possono assolutamente ottenere sono assolutamente fattibili ma sono a pannaggio di chi rispetta due requisiti o non sa che il profitto è legato al rischio o non sa che il trading ha un mestiere di lungo ok io se vi dicessi vi do 50.000 euro per aprire un ristorante voi lo aprireste in funzione di una di una di un'attività che dura nel tempo o pensereste di aprirlo per poi chiudere dopo tre mesi o dopo sei o dopo un anno il ristorante da un certo punto di vista è come il trading io devo lavorare per essere vivo inteso come per avere soldi per avere capitale per non perdere soldi anche l'anno prossimo ok quindi se io rischio troppo metto a repentaglio i miei risparmi e non ho lungimiranza chiunque faccia guadagni iperbolici io sono ripeto solo contento ma c'è un'evidenza nella mancata gestione del rischio poi ognuno la gestisce come vuole non è che voglio dire salcice non è che voglio dire chissà che cosa ma la matematica base di chiunque voglia fare trading in modo consapevole non la mia maniera in modo consapevole se volete la stessa cosa lo dice Unger io lo dico perché l'ha detta lui Unger è il miglior trader sistematico al mondo ok chiaro ok è che bisogna rischiare poco per singolo trade per non incappare in una serie consecutiva di trade che tolgano troppi soldi al conto perché si perde in modo molto più veloce di quanto si guadagna il rischio è l'unica cosa certa il profitto non è un diritto vuol dire che se io perdo il 10% per tornare al punto di partenza devo guadagnare l'11% vedete la simmetria se perdo il 20% per tornare al punto di partenza devo guadagnare il 25% se perdo il il 25% devo guadagnare il 33% vado a memoria c'è una simmetria quindi io prima di pensare al profitto prima di pensare a fare il 100% in un mese o in tre mesi devo pensare a non perderli sono i miei risparmi devo a quei risparmi un'attenzione particolare li devo preservare poi ripeto non volete farlo non è un problema mio va bene però ve l'ho detto ok poi ci si sorprende eh chi è impossibile che guadagni col trading perché il 95% dei trader perde ma è normale è normale perché la gente sa le cose sbagliate sono concetti basilari ma che nessuno ti dice perché se vendi l'idea di poter fare il 100% in 1,2,3,6 mesi c'è qualcosa di problematico in fondo cioè l'impossibilità di far sì che questa cosa si perduri nel tempo ok prosegua nel tempo è impossibile devo rischiare troppo per farlo ok può capitare 6 mesi di fila anche rischiando poco va bene e già un anno è difficile lo fanno solo i migliori due anni è impossibile se tu punti a fare il 100 150% ogni 6 mesi non riesci a reagire per due anni in due anni ti sei azzerato il conto ti sei azzerato il conto ora se tu mi dici ho 5.000 euro voglio rischiare solo il collo al massimo li perdo pazienza va bene fallo non è un problema ma io non parlo a queste persone qui non mi interessa io parlo ai trader che vogliono vivere nel lungo periodo col trading ok altra cosa e la diversificazione di portafoglio niente qua i raccomandati sono abbastanza randomici in base alle situazioni in base alla ricorrenza ok ma io quando apro uno spread per il mio portafoglio quindi per i segnali considero se ho altre posizioni correlate in portafoglio perché se non mi va bene una c'è il rischio che non mi vada bene anche l'altra devo essere diversificato chi è che può diversificare chiunque sappia cosa voglio dire chiunque sappia quali sono le caratteristiche che muovono i mercati e che legano un mercato all'altro se io apro su 20 spread 15 spread su soia mais frumento farina di soia e olio di soia sono sbilanciato non sono diversificato la diversificazione è gestione del rischio ok questo succede quando si fanno i raccomandati senza pensarci ok fatelo ma così con questa diretta io vi ho fatto risparmiare dai 1.500 ai 3.000 a 4.000 euro ve lo dico gratis comprate il season algo seguite le mie indicazioni e almeno risparmiate poi i soldi comunque è un tipo di trading che non appoggio non mi piace non mi sognerei mai di consigliare a qualcuno se vuole costruire una casa vai basta che maneggi un po' il martello ce la puoi fare non è così comunque senza competenze senza uno studio approfondito non si possono raggiungere risultati decenti nel lungo periodo non si può si si può cavalcare l'onda della randomicità della casualità per un po' ma non si può ve lo dico io ora perché parlo? perché io il martedì vi mostro il conto e vi dico che oggi io ho preso uno stop loss da 456 euro ve lo dico non ho alcun problema perché non ho motivo di nascondervi le perdite le perdite sono solo il sintomo del fatto che sto tradando davvero chiunque non parli di perdite è perché non trada davvero oggi ho preso un bellissimo stop bellissimo bruttissimo stop loss sullo zucchero ho riaperto la posizione che tra l'altro non è stata ancora affillata ma non ve lo dico perché sono informazioni riservate basta gli ultimi mesi di spread stagionali non sono andati da dio sto avendo dal primo gennaio del 2019 una percentuale di 3 vincenti intorno al 66% 66-70% ma gli ultimi mesi non sono andati bene non sono andati bene ho preso qualche stop qual è il problema ve lo mostro non me ne frega niente poi tornerà a salire faccio qualche mese laterale poi sale faccio qualche mese laterale e poi sale sono 3 anni che non chiude il negativo e ci sarà un motivo e poi mi vedono sbarbato e dicono ma cosa ne deve sapere lui io ho 50 anni e da 30 anni che faccio trading e beh da 30 anni che fai trading non ho ancora capito le basi fammi capire che trading fai fatemi rispondere a qualche domanda le medie 5 no lo stake va bene per entrare al mercato Mario Piero Namoselli una domanda tutto stop studio stagionalità e poi è chiuso l'anno in pareggio scusa eh ma dovevo dirlo almeno Unger ha fatto più 25% Unger ha fatto allora Piero se mi vuoi provocare dimmelo Unger intanto ha fatto 0 l'anno scorso e quest'anno è 25 io l'anno scorso ho chiuso in positivo e quest'anno ho chiuso a 0 quindi qual è il problema chiudere a 0 un anno è sintomo di non essere capaci non hai capito niente di cosa sia il trading allora te lo devo dire io solo una persona ho conosciuto che negli ultimi 10 anni è sempre positivo ed è la persona da cui ne ho parlato tutta questa roba qua che mi ha messo il germe della stagionalità che poi ho approfondito e a cui chiedo ancora consiglio basta tutti gli altri hanno sempre fatto almeno un anno negativo e anche molto negativo però non lo dicono non mi dispiace cioè mi dispiace aver chiuso a 0 va bene ma lo mettevo in conto perché è così che funziona intanto non ho chiuso il negativo ripeto Warren Buffett il migliore investitore della storia e dei tempi in 50 anni ha fatto 10 anni negativi facendo 2008-2009 al 1.40% poi essendo multimiliardario ci aveva annato ancora di più ma al 1.40% io ho chiuso il negativo e io ho chiuso a 0 tu stai commentando questa roba? beh per me è inaccettabile non hai capito nulla io ho fatto 250 video su youtube in cui parlo di queste cose qua in cui posto perdite vincite in cui commento la mia esperienza la racconto in una trasparenza che nessun altro si può permettere e mi viene a dire scusami fai tanto il gradasso e poi chiudi al 0% beh scusami se ho detto delle cose assolutamente fondamentali a 0 euro quando c'è gente che paga 2000 euro per queste stesse informazioni e in più ho aggiunto delle mie cioè dicendo cosa è giusto e cosa è sbagliato io non ho parole veramente Grace se mi lasci chiusa la porta gentilmente grazie tesoro perfetto allora no non sono in diretta su youtube il video domani alle 14 lo ricarico lo sto registrando poi massimiliano scioscia ah sono contento sono contento che riesce a guardare ah basta non c'erano altri commenti dopo il commento intelligentissimo di Piero non ci sono altri commenti ok sono qua sono qua a disposizione comunque nel caso sono arrabbiato semplicemente perché ognuno è libero di spendere i soldi come vuole ok ma bisogna sapere non so mi imbarazzo a dire cioè se vuoi mettere a rischio i tuoi soldi non puoi non avere una competenza di quello che che tu fai cioè per comprare una macchina ci metti 6 mesi confronti 800 prezzi vai fino a Biella per prenderti una macchina per poi portarti alla casa per risparmiare 500 euro e nel trading lo approcci così facendoti raccontare balle non documentando neanche un minimo cioè sulla schermata principale di Seasonalgo ci sono 5 medie 5, 10, 15, 20 e 30 tu ne carichi solo 5, 15 cioè ti costa tanto premere altri 3 checkbox per vedere un pochettino più come funzionano le cose ti costa tanto capire perché si muove la soia ti costa tanto capire perché i metalli sono sbagliati ti costa tanto capire perché le stagionalità sul forex non esistono è questo che mi scoccia tutto qua perché queste informazioni base e alcune comunque sbagliate sono gratis sono gratuite se le volete non andate a spendere 2000 euro di là basta tutto qua sul mio YouTube avete tutte le informazioni possibili immaginabili siamo a 260 video e molti sulle stagionalità nella playlist stagionalità ci sono 44 video non è male per partire 44 video totalmente gratuiti poi apro il mio conto mi dicono ma perché non apro il conto è qua il conto se volete oggi ho preso uno stop così certo poi ci sarebbe no non lo vedete certo poi ci sarebbe questa posizione sul DAX a più 7401 dollari ma non mi interessa farvelo vedere perché domani posso perdere e nel lungo periodo a me interessa divulgare fare informazione bene affinché la competenza che trasmetto possa portare frutti in un lungo periodo oggi posso perdere domani posso guadagnare dicembre e fino a metà gennaio con i trading system sono andato da dio è andata molto bene e le ultime due settimane ho preso delle batostine qua e là quindi il mio orizzonte temporale è a due settimane io faccio questo di mestiere ragazzi non posso pensare a due settimane non è così che posso procedere ok? cioè vi rendete conto io devo pensare a vivere a pagarmi la pensione a pagarmi le spese a pagarmi da mangiare eh questo è il modo per affrontare questa giornata se avete dubbi domande perplessità chiedete pure Mario Mambre si ma stucchi a me non risponde ai messaggi eh ha da fare non è che sennò avrebbe fatto un corso tutto qua io credo di avermi di essermi meritato la sua attenzione abbiamo lavorato un po' insieme apprezza alcune cose che faccio altre meno c'è scambio e confronto non fa corsi quindi non è tenuto a rispondere assolutamente nessuno ha risposto per anni poi si è arreso e ora dice le cose solo ad alcune persone non poche tra l'altro quindi fa comunque ancora un gran lavoro ma non ha la massa tutto qua oh mi sono tolto un bel peso sono sono contento quindi detto questo se volete approcciare le stagionalità in modo professionale guardando lungo periodo e gestendo proprio i vostri risparmi su dati risparmi serve oltre a quello che vi ho detto in modo gratuito totalmente accessibili vi ho già detto miti o vi ho sfatato le cose serve una modalità di ingresso efficiente quantomeno intelligente una gestione del rischio e la diversificazione del portafoglio basta queste sono le chiavi poi si trano le stagionalità non sono difficili ripeto esistono esistono indipendentemente dal nostro operato quindi non c'è nulla di speciale nel tradarle certo magari studiare un pochettino potrebbe aiutare e ripeto le batoste le ho prese le ho prese come ho preso questo ho preso questa uff e li prenderò ancora sono certo e di questo zucchero è entrato mannaia e non è stato però eseguito devo modificare il prezzo va bene se avete dubbi domande e perplessità massimo riva mi sa che stasera ti sei fatto un po' di nemici si lo so l'ho fatto apposta devo essere sincero mi sono un po' un po' stufato cioè non è un invito a comprare nulla da me è un invito a non spendere soldi in modo inefficiente pur di non spendere 2000 euro per delle cavolate date retta a me guardate una diretta gratis vi dico come fanno come dovrebbero fare penso che facciano visto che mi sono documentato e lo fate basta se volete tradare così lo fate gratis se volete essere un pochettino migliori allora c'è un percorso da dover fare da trader professionisti e non vuol dire trader full time vuol dire approcciare il trading in modo serio tutto qua Mario appunto perché non fa corsi perché non ha bisogno o ne voglia è tranquillo fa il suo ha già il suo bel affare per il suo nessuno lo obbliga ed è contento di non fare corsi tutto qua apprezzo certo il suo corso sarebbe assolutamente gradito ma se non lo vuole fare perché dovrebbe farlo se non ci voglia non lo fa io faccio corsi perché c'ho voglia tutto qua che poi nemici Massimo Riva che nemici voglio dire è il solito discorso è il solito discorso ancora oggi mi è arrivata una mail guarda la casalinga di Voghera ha guadagnato 50.000 euro facendo nulla dai anche basta anche basta guadagni perbolici nel trading basta se volete fare guadagni perbolici comprate super analotto avete le stesse probabilità una sui 680 milioni basta fate così almeno vi risparmiate queste spese inutili spendete 2.000 euro in 6 anni 6-5 anni 1 euro al giorno di super analotto ma non comprate quei corsi la Alessio Garavaglia ogni riferimento è puramente casuale Alessio anche che la utilizzo quando mi va ma approfondisco gli studi non ho detto che è scadente io utilizzo Seasonalgo perché ha dentro degli studi assolutamente evoluti che mi permettono di operare in modo professionale ma chiunque compra Seasonalgo si ferma a Strategies Recommend guarda 15 su 15 è emozionatissimo colmo di gioia di lacrime di gioia e dice ah questo è il 3 della vita alcuni sono 3 della vita ma basta analizzarlo lo apro lo guardo faccio qualche analisi in più che Seasonalgo mi permette di fare e procede basta io ho Seasonalgo e consiglio a chiunque voglia fare stagionalità di approcciare Seasonalgo è il migliore assoluto mi sono stati consigliati altri 2-3 siti assolutamente imparagonabili imparagonabili da qualsiasi punto di vista ma capisci bene che utilizzare Seasonalgo per fare così guardare 2 medie quando ce ne sono intanto 5 e più una serie di studi nascosti ma neanche tanto che si possono fare quello lo fa anche un bambino e quindi a questo punto fatelo come i bambini senza dover pagare tutto qua Massimiliano pensare di diventare ricchi con gli spread è assurdo pensare di diversificare con gli spread è saggio poco costoso è soddisfacente forse chi ha speso 2000 euro di corso aveva aspettative sbagliate conseguentemente mi faccio una domanda è un trader professionale o un rookie che ha appena visto il film The Big Short ah e beh certo poi questi film aiutano pensa trasmette il messaggio questo Wall Street e altri che il trading è una scommessa devi lavorare per sbancare il mercato con un trade super positivo che ti fa diventare milionario non è così in una maniera più assoluta è un po' come dire gioco al super in allotto ogni giorno perché uno ha vinto e sì ma la probabilità di vincere è uno sui 680 milioni ok quindi forse è meglio scommettere con un miliardario che non ti fa investire attraversando l'A1 nudo e cieco hai più probabilità ti fai pagare 100.000 euro se riesci a superare se trovi un ricco abbastanza pazzo da pagarti per attraversare nudo l'A1 in pieno in piena estate cieco devi attraversare 6, 8, 10 corsi e se arrivi ti fai pagare 100.000 è meglio hai più probabilità allora tra l'altro Massimiliano Soscia e Soscia diversificare con gli spread è più difficile di quanto sembri nel senso che sono pochi i settori a disposizione sono granaglie carni energetici e soft sui soft si diversifica benissimo e io sono assolutamente pro soft ma hanno delle difficoltà in termini di stagionalità perché sono meno descrivibili gli altri sono tutti abbastanza correlate tra se stessi nel settore energetici abbiamo 4 5 strumenti crude oil brent benzina heating oil natural gas i primi 4 sono tutti correlati quindi è comunque più difficile di quanto sembri mentre la diversificazione tra gli spread stagionali fatta benino e gli indici è un buon progetto sicuramente deve essere un pochino fatta benino un attimo sovraesporsi ecco Geronima Emilia Ortiz Santana altra domanda cosa si impara nel tuo corso di spread trading stagionali season spread strategici lo strategici è tutto quello che manca quindi future tutte le basi perché la competenza non si può sottovalutare si fa spread trading esclusivamente su future non su CFD su forex su nient'altro quindi c'è un'ora dedicata solo ai future perché è necessario comprenderli a pieno e si impara cosa sono le stagionalità dove sono perché quando le ragioni fondamentali la legge della domanda dell'offerta dove si modifica il prezzo come entrare al mercato come gestire il rischio come uscire tutto tutto tra l'altro sono in arrivo 4-5 lezioni croccantissime che non vedo l'ora di registrare le ho preparate di approfondimento che mi stuzzicano Antonella Abbondanza che nome curioso oltretutto basta ragionarci una volta che hai modificato il tuo conto da 5.000 euro cosa fai? ti paghi la pensione con 10.000? ovviamente no lo devi rifare ed un trade che ti moltiplica il conto può pure bruciartelo per cui se lo fai tante volte prima o poi brucerai non è sostenibile no certo? è l'apoteosi della non sostenibilità è assolutamente evidente rendete questa diretta più diffusa possibile perché è informazione gratis al posto di 2.000 euro ok? gratis pulita semplice ho raccolto quello che ho già detto vi ho spiegato le cose come stanno vi ho spiegato come evitare di spendere soldi non solo informatori che non sanno quello di cui parlano ma anche in tre sbagliate quindi eliminate che ne so da questo a questi paradossalmente c'è solo silver sui metalli ad esempio e non ci sono sull'indice né nulla nel momento in cui non filtrate nulla appare ecco qua l'SP500 appare no questo basta sono andate abbastanza leggeri gennaio vediamo chi c'era le future non tradabili abbiamo platino abbiamo il legname pericolosissimo il palladio il vix corn silver ancora palladio ma io ho tradato i metalli e mi è andata bene ma sono contento va bene ma il fatto che sia andata bene uno due tre cinque volte non giustifica il metodo che c'è dietro perché se io tiro la monetina ho buone probabilità che esca cinque volte testa ci si sta paragonando non a una strategia di trading evoluta che possa permettere di guadagnare e di aumentare i risparmi di una vita nel lungo periodo con il lancio della monetina con la pura casualità non ha senso dire una volta io va e lo stesso anch'io se apro un spread su 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 un indici long probabilmente azzecco ma è una strategia la strategia è una cosa diversa è una gestione del trading di un vantaggio competitivo già preesistente in modo sistematico e in modo che possa essere ripetitivo e sostenibile ma si Milano si si intendevo diversificazione non tra spread ma insieme a indici stocks e qui andiamo di buzzfoglio si si quella è perfetta quella è quasi magica perché proprio hanno orizzonti temporali diversi logiche diverse è difficile magari pesarli quindi equipesare tutto ma la diversificazione spread stagionali e indici è meravigliosa si si Francesco Casarosa io il palladi l'ho fatto con i CFT hai sbagliato tutte le volte perché lo spread sul palladi non si fa anche se qua lo dice e sta andando a target io spero voi le abbiate fatto e che stiate guadagnando io non sto sperando che voi perdiate soldi spero stiate guadagnando spero però non lo rifacciate più perché non so quanti siano le probabilità che l'anno prossimo continui a funzionare una stagionalità su metallo che dura 37 giorni totalmente avulsa da qualsiasi altro movimento da qualsiasi altro movimento ciclico stagionalità con i CFD ancora peggio perché i CFD non hanno scadenza se non le F1 cioè non ha senso io per tradare l'estate la stagionalità sul corn devo lavorare il future sul corn di dicembre di marzo quindi Z o H come faccio a tradare l'F1 cambiano i prezzi i future sono contratti standardizzati regolamentati a scadenza ogni scadenza ha dei prezzi diversi tra le altre cose non vi ho fatto neanche vedere sta roba del soybean meal ma comunque la conoscete cioè che non c'è alcun alcun merito nel tradare in modo positivo questa stagionalità perché in 59 grazie Grace perché in 59 anni guadagna il 73% di volte quindi ci posso pensare l'ichimoku il fibonacci il gan e le onde di Elliot le forchette di cannavalciuolo e il risultato è sempre quello non è che guadagno per le forchette di cannavalciuolo guadagno per la stagionalità dai ragazzi non vi fate dire non stiamo qua a parlare sempre delle stesse cose perché poi se vi faccio vedere un po' di analisi tecnica fallita no? ho 20 qua ho 20 schede pronte per voi di analisi tecnica completamente fallita atroce assurda senza alcun problema anch'io sbaglio i trade ok? ma faccio un'analisi statistica questi senza alcun tipo di analisi puntano un indicatore e pensano di fare chissà che cosa dai assurdo mamma mia fantastico avete altre domande di dubbi perplessità sono qua ancora per poco ha una gamba sul palladio va bene ma ok se hai guadagnato sono solo contento sta attento perché se la rifai rischi di perdere tutto qua ma se hai guadagnato sono solo contento ti assicuro ripeto se guadagni tu non perdo io vai sereno tranquillo che va bene così soffermiamoci su questo croccantissimo spread sui maialini perché c'è anche gente che non fa spread sui maialini c'è follia insomma la follia non esiste sta cosa quindi ho aperto se vedete non ho aperto 18 spread sulle carni anche se avrei potuto ho aperto uno spread sui maialini uno sul crude oil uno sul natural gas non sulla benzina uno sul soybean oil uno sul cacao e uno sul latte non è che ho aperto mille cose sulle granaglie mille cose sulle carni questa è la diversificazione che non c'è nei raccomandati in geronima emilia dimmi ciao luca giusti è un piacere sei è la prima diretta che vedi vero geronima emilia ortizia santana in spread intendi che cosa cos'è che intendi spread francesco casarosa si di brutto grazie ripeto sono solo contento complimenti ammiro il fatto che tu abbia guadagnato ti ripeto stai giocando con la fortuna stai tirando la monetina se sei contento di fare trading con la monetina perfetto chissà quanti mesi fai di positivi c'è questa possibilità quindi vai sereno luca giusti ti do questa questa chicca ho inventato ho inventato la forchetta di cannavacciuolo abbiamo cicli lì di fibonacci i ritracciamenti di fibonacci le onde di eliot gli angoli di gan e le forchette non di andrews se non sbaglio ma di cannavacciuolo se vuoi puoi utilizzarla non ce le copierai le forchette di cannavacciuolo cosa sono le forchette basta andare su trading views trading view e si hanno le forchette di cannavacciuolo comunque spero che questo video sia piaciuto a voi croccantelli beh certo perché era l'ora di dirle queste cose dovete condividerlo perché è un'informazione gratis che vi fa risparmiare ah questi sono i miei tentativi eccolo qua questa è una forchetta apriamo una forchetta indicatori dove la trovo la forchetta non su indicatori eccola qua forchetta pitchfork che belli guarda qua guarda qua che bello guarda qua fantastico ma si può bellissimo sono un artista ho registrato tutto domani su youtube alle 14 c'è tutto siamo già un'ora mi sono già stancato vi ho detto fin troppe cose facciamo un breve recap dai allora evitate i servizi a pagamento che si basano esclusivamente sui raccomandati se volete fare qualcosa del genere affittate season algo da 33 a 53 euro al mese prendete i raccomandati non fate spread trading di stagionalità su gli indici finanziari quindi sui future finanziari quindi indici obbligazionari e valute non fatelo possibilmente sui metalli fatelo con trade che siano almeno lunghi 60-90 giorni così non avete pagato 1500-2000-3000 quella roba lì che ti danno in quei servizi avete pagato solo 50 euro al mese fate la stessa operatività da lì manca la gestione dell'ingresso senza alcun tipo di indicatori che non servono cioè non hanno letteralmente senso logico manca la gestione dei rischi manca la copertura e manca la diversificazione piccole chicche ma intanto l'informazione è gratuita pronta per tutti ed è un onore darvela così in che senso comunque vai ancora 5 minuti domande, dubbi perplessità scrivevo se hai mai fatto o fai spread sul vips sì se gay ma stasera giusti magra sì ci sono i vips stasera mario mambre l'ippopotamo e lo scopettone bravo bravo hai visto il video in cui spiego i pattern cioè la barca lo scopettone e l'ippopotamo sì assolutamente non esiste la stagionalità sul vips attenzione non esiste minimamente è un future finanziario sì punto quindi ok gli stop loss consigliati di season algo sono validi secondo te e ci ciao andrea ci sono stop loss consigliati dove sai che non li ho visti qua queste parti non so io prendo prendo gli stop loss in modi che ho spiegato in altri video e non lo voglio di ripetere perché ho male la gola guardando lo storico e guardando sostanzialmente il prezzo passato tutto qua i vips hanno tirato un sacco di persone ciao vips domande dubbi perplessità ancora 5 minuti poi me ne vado perché devo fare altro ho altre cose da dover fare piuttosto che stare qua a parlare ciao dottor Pagano se ne sei andato via e poi sei tornato adesso e ti sei perso la parte e mezzo in cui mi sono arrabbiato di più ma ho fatto risparmiare 2000 euro alle persone grazie a me complimenti Francesco la diretta prossima sarà sulla statistica cioè vi far vi parlerò di come è facile ingannare la statistica e di quanto 15 su 15 faccia ridere come statistica Filippo Gelli che rapporto usate tra stop loss e take profit negli spazi stagionali non lo considero non mi interessa non mi interessa metto uno stop loss che ritengo valido per gestire la posizione e uno take profit che ritengo valido ogni tanto è superiore ogni tanto è sotteriore a uno e basta non importa qua ripeto apriamo il conto perché c'è gente ancora che dice non fai vedere i conti non fai vedere i conti allora io ho il summary con la statistica di 66% di 3 di vincenti e il conto qua ecco qua a vostra disposizione così siete croccantelli la roba più rosa che ho qua davanti è il il microfono ha lo stesso colorazione ha lo stesso pelaggio di di Grace la gatta vieni a trovarmi ogni tanto adesso ha fatto altro lasciamo stare cosa ha fatto ma andati là perché è arrivata la mamma quindi altro da fare adesso metti anche il tuo conto Massimilio no tienimo per te dai già sto esagerando io grazie per il video chiaro e conciso no sei stato molto meno chiaro di quanto avrei voluto comunque sono contento che ti sia aiutato i worst Mario Mambre si va bene prendi anche quelli ok basta che poi analizzi rispetto agli stessi future del passato quindi se lavori su corn dicembre paragonati ai corn di dicembre degli anni precedenti , hai un'idea un pochettino più chiara tutto qua signori è stato un piacere ci siamo divertiti mi sono allabbiato sufficienza spero che sia stata gradita questa diretta spero di avervi fatto risparmiare soldi condividete video diretta link cose fate cose ci aggiorniamo domani che mi riposo oggi ho visto ti macina a quest'ora Luca ma sei matto sono le 9.40 e ho visto il film del Giovanni Giacomo Mario Mambre ma può essere logico mettere lo stop loss guardando i worst passati cosa ti ho detto può essere logico prenderli in considerazione poi devi fare un'analisi guardando il future confrontato ai prezzi dello stesso future negli anni precedenti ok magari riesci a prendere anche le deviazioni standard degli ultimi 15 anni può essere d'aiuto non solo quello è stato un piacere ci vediamo grazie mille ciao ah devo andarla a prendere qua però mannecce una pupazza ah le ultime domande allora via sono qua preferisci spread divergenti o convergenti non me ne preoccupo in realtà sì Massimiliano Scioscia basterebbe fare advanced analysis per lo stop loss sì ma non sempre quello si può fare purtroppo però sì di base è regione ma non sempre si può fare la uso meno di quanto vorrei comunque ciao